Allora, la Loris ce la può fare, io non mi perderò da McDonald's Dica ragazzi, come si esce? Da qua? Cantare, prego Ok, resta canto È un attimo perché la Loris è persa nel parcheggio dal McDonald's E' un attimo che è uscita E' un attimo che si è trovato per la contromano perché se no non è curtenza Ovviamente Manovra assassina, cazzo Non fa più per male, neanche per fischiare No, stai riprendendo una manovra molto illegale che la Loris ha fatto Stella, anche se fa male Che torneremo ancora a trombare Senza pare, si recca quattro ore Oddio! E' senza parlare qui giù? No, 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 no Ma è la Loris? Ma è la Loris? Ma è la Loris? Ma avete preso che lei ha detto, lei ha detto, lei ha detto figa Stai mottendo ora la macchina Questa è Laura! Basta va E sappiate che stasera non ho bevuto alcolici Oddio, non bella luna E stavo anche per pesciar fuori dalla rotonda Volete vedere grazie alla rotonda al contrario? No! 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 Sì! Sono giovane per morire Sei giovane per morire Questo video è stato ritrovato il 7 febbraio 2010 E allora è corti Dei giovani bruesciani Non furono più ritrovati E non qualche pescettino di carne Che puoi seguire il carino di McDonald's O di là di che parlo Eh comunque io ce l'avevo di là Quindi se vuoi lasciarmi pure Ecco esatto Non è? Sarò giù di lì Quindi lasciarmi qui Non puoi Mi sa Ci sono i panettoni Ah ok Io non vado d'accordo con i panettoni Quindi ti saluto Ciao Salutate tutti Bacini Ciao 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 Ciao